Enrico Prima ti ha definito un po' come prototipo del giocatore moderno, io ti ho definito come ragazzo talentuoso e promessa di questa Serie B. Voglio arrivare a capire con te da dove nasce questo talento e come nasce, quindi ripercorriamo un po' gli anni indietro e ti chiedo quando è che tu hai mosso i tuoi primi passi all'interno di un campo da pallacanestro e che cosa ti ha spinto a cominciare a giocare a pallacanestro? Allora, diciamo che la mia famiglia era appassionata di basket, perché mio padre giocava, mia madre nel suo piccolo giocava, i miei zii giocavano, uno dei miei zii appeso al Flaminio, al palacanestro di Rimini. Ricordiamo anche chi è, per chi lo so. Franco Ferroni. Esatto. E quindi, tra virgolette, era quasi il destino che cominciassi a giocare a pallacanestro. Poi, per quanto mi ricordo, ho cominciato da piccolo all'IBR, che è una società di Rimini, che adesso è ovviamente sotto RBR, e che avevo avuto 5-6 anni, più o meno. E quindi, la pallacanestro mi ha subito appassionato tanto, poi ovviamente averle in casa è ancora di più. Ma ascolta, poi da qui hai iniziato il tuo percorso a piccoli passi ad arrivare poi fino al giocatore che sei oggi, però hai a mente un momento in particolare in cui ti sei reso conto che avevi veramente le carte in regola per poter diventare un bravo giocatore, e quando è stato questo momento? Te lo ricordi? Io ho sempre avuto molta fiducia da parte della mia famiglia e da parte degli allenatori che mi hanno allenato. Un episodio che forse mi ha lasciato un po' più, una cicatrice un po' più importante, può essere stato l'anno scorso, tutta l'annata come ho giocato, come comunque ho dato una mano alla squadra e l'ho diventato, tra virgolette, un giocatore molto importante. E poi, un paio di anni fa, quando mi hanno chiamato con la nazionale, a fare un raduno con la nazionale, io, quando mi hanno chiamato, ero in vacanza e quindi vedere comunque la chiamata della nazionale è comunque sempre molto soddisfacente. E quello ti ha fatto capire qualcosa. Sì. Che la strada era quella giusta. Sì, sì, però guarda, quando Volpin parlava prima, io sono un po' come lui, mi abbatto molto facilmente, cioè nel senso, molte volte sono io che non ho fiducia in me stesso. E magari sbaglio qualcosa e quindi dopo mi faccio il lavaggio del cervello ed è una cosa che devo eliminare. Quando il talento è tanto e c'è, si è anche molto autocritici, ecco, anche troppo a volte. Ma, ascolta, la passione per la pallacanestro, quindi lo sappiamo che c'è e soprattutto tu hai un tatuaggio, ti chiedo di mostrarcelo se ti va quello della... Orca, ti devo fare smontare tutto. Spogliare tutto? Ce la fai! Spogliare l'indirata per ora. Perché c'è un bellissimo tatuaggio usato che vorrei, ecco, a favore di telecamera. Che cosa significa questo tatuaggio per te, meraviglioso? Il mio è il primo che ho fatto e l'ho fatto quando ho compiuto 18 anni e praticamente l'ho fatto per... Lo volevo fare in maniera diversa, poi il tatuatore mi ha aiutato a gestirlo meglio. Perché l'ho fatto perché la pallacanestro nella mia vita è sempre venuta prima di tutto. E quindi è parte di me e quindi l'ho fatto per far capire che la pallacanestro scorre dentro di me. E quindi ho fatto, come avete visto, l'elettrocardiogramma, che la prima parte è collegata alla parte sopra della palla e la seconda invece è la parte sotto e non si toccano mai tranne le linee del pallone. E quindi... Diciamo che questo è veramente un bellissimo tatuaggio e una bellissima spiegazione. Allora, un'altra cosa che voglio chiederti, anzi dirti, che i talenti sicuramente si hanno, però a volte emergono da soli, altre volte bisogna lavorare. Prima prendere coscienza di avere un talento e poi lavorarci tanto per farli emergere. E volevo chiederti... Hai detto che prima il sostegno della tua famiglia è stato importante, ti ha fatto capire che effettivamente potevi dare, potevi fare la differenza nella pallacanestro, ma chi è che poi ti ha aiutato nel mentre, nel tuo percorso, a forgiarti ancora di più e a mettere in evidenza ancora di più questo tuo potenziale? Sicuramente gli allenatori che ho avuto, perché sono stati tosti con me, perché molti alle giovanili mi hanno, ovviamente mi hanno, tra virgolette, riempito di insulti, perché comunque pretendevano tanto da me e quindi all'inizio magari me la prendevo perché ero piccolo, però mano a mano che cresci capisci che lo fanno per te, quindi devi prendere tutto quello che ti dicono, prendi le cose positive e le tieni. Quindi mi hanno aiutato molto. Perfetto, ma il tuo idolo ideale di giocatore in passato e ideale di giocatore adesso, quale potrebbe essere? E soprattutto dicevi l'aiuto dei tuoi allenatori che ti hanno portato a migliorare, ad emergere, su cosa state lavorando principalmente in questo momento? I tuoi aspetti sia da giocatore che mentali. Io come giocatore ho sempre ammirato Kobe Bryant, sempre. Infatti qua c'è un altro tatuaggio che è una frase sua. Ah, che meraviglia. Poi, però se devi dire, un giocatore in cui ti rispecchi un po' di più, se lo guardi può essere Kevin Durant, uno da cui cogliere un po' più di cose, perché è molto longilinio, è veloce. Cioè, fisicamente è molto simile come struttura a me. Però ovviamente lui è Kevin Durant, io lo ammiro e cerco di imparare quello che lui fa. Esatto. E come impari? Hai detto che ti stanno aiutando, su che cosa state lavorando in questo momento? Allora, stiamo lavorando su palleggiare se tiro, difesa, uno contro uno, che sono le cose che principalmente mi mancavano, perché anche se il tiro da tre punti in questo momento non mi sta aiutando, comunque è una cosa che c'è e che non dubito sul fatto di ritornare a far canestro. Per me è un momento no, ma ci sono durante la stagione. E quindi mi sto considerando sul resto, appunto, come avevo detto prima, per diventare un giocatore un po' più completo. Ma dovrà essere pericoloso in tutti i punti del campo e un buon difensore. Un ragazzo di Rimini che gioca per la società della propria città. Una società che all'interno del proprio nome ha una parola davvero importante, di carica di significati importanti, che è rinascita, è quella che hai scritto tu nella tua felpa. E quest'estate tu hai firmato un contratto con validità triennale. Che cosa significa per te avere un ruolo così importante e centrale in una società che porta il nome rinascita, quindi in un progetto di rinascita? No, sicuramente è stata una cosa importante di cui sono molto felice. Perché comunque mi fa capire che la società ha piena fiducia in me. Io restare a casa altri tre anni a giocare nella scuola della mia città è bellissimo. Poi con tutti i progetti che ha la società, di arrivare in alto, mi farebbe ancora più piacere arrivare in alto con la squadra della mia città. Ovviamente in questo momento il pubblico durante le partite manca, perché c'è veramente, anche all'esterno c'è veramente tanto hype, diciamo così, verso di noi, quindi quando l'anno scorso facevi le partite, c'erano 4.000 persone al Flaminio, la gente che ti aspettava fuori dal palazzetto, i bambini ti facevano foto, autografi. Cioè, per me, magari per i miei compagni che sono già grandi, è tutto normale, sono tutte cose già viste. Ma a me che compio 22 anni quest'anno, un bambino che mi viene a chiedere le mie autografie la scarpa, facciamo una foto, è una cosa incredibile. Un'emozione meravigliosa. Mi emoziona tutte le volte. Eh, ma sai, sai perché? Perché comunque da Rimini, dalla piazza di Rimini, ci sono stati davvero tanti ragazzi giovani come te, che hanno iniziato il loro percorso come te, che poi sono diventati dei veri e propri miti. Sono ragazzi della generazione di Enrico, per esempio, parlavamo prima di tuo zio, e proprio di questo volevo chiederti una cosa. La possibilità di poter diventare probabilmente un'erede di queste grandi personalità è più uno stimolo per te o da un lato ti spaventa anche? Eh, forse è più uno stimolo perché io penso, non penso a quello che c'è stato. Ovviamente prendo tutti i consigli che mi vengono dati per migliorarmi. E quindi, eh, la domanda arrivo, posso essere un'erede? Eh, magari sì, io cercherò, cercherò di arrivarci sicuramente. E allora concludo facendoti forse una domanda un po' scontata però. Il sogno nel cassetto di Niccolò Moffa? Io sogno di arrivare in Serie A, come tutti i ragazzi. Poi adesso, non rimane qui perché siamo in diretta, però io e i miei, nonostante mio zio abbia giocato alla fortitudo, io, mia mamma e mio babbo siamo molto tifosi della Virtus. Quindi arrivare in Serie A con la mia maglia sarebbe top, con la maglia di Rimini. Però immaginarsi un giorno magari con la maglia della Virtus è una cosa che mi fa impazzire. È il sogno, ecco, bello. Abbiamo scoperto anche questa cosa. Esatto, è anche una confessione. Sì, 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 no, però l'ho sempre ammirata. Poi mia mamma ha la maglia di Danilovic a casa. Eh, quindi... Eh, beh, insomma.